Ieri pomeriggio in autostrada 4 tra gli svincoli di Cessalto e 90 di Piave in direzione Venezia un incendio si è propagato al rimorchio di un auto articolato che stava viaggiando sul tratto stradale. L'autista durante la guida si è reso conto delle fiamme ed è intervenuto prontamente fermando il mezzo e staccando la motrice. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che tramite due autopompe e un autobotte hanno spento le fiamme del semirimorchio carico di materiale ferroso. Nel corso delle operazioni di spegnimento dell'incendio la viabilità ha subito notevoli rallentamenti con il formarsi di lunghe code.